I tempi saranno molto lunghi, ma noi speriamo che qualcosa via via vada cambiando. Aveva fiducia nei giovani e li invitava a custodire e coltivare i semi del bene. Don Pino Puglisi, il sacerdote di Brancaccio ucciso dalla mafia nel 1993, verrà ricordato al Teatro Comunale di Soverato il prossimo 25 maggio, a cinque anni esatti dalla sua beatificazione, grazie alla compagnia dei sognattori che su input dell'Arcivescovo di Catanzaro Squillace, Monsignor Vincenzo Bertolone, postulatore della causa di beatificazione, proporrà un'esperienza di docuteatro dal titolo Ti racconto 3P, padre Pino Puglisi. Lo spettacolo è una parte iniziale che è puramente giornalistica, dove facciamo vedere gli anni in cui è collocato, in cui è maturato l'omicidio, quindi agli anni 90, anni in cui il potere mafioso cercava di intimidire lo Stato. Sono gli anni del rapporto Stato-mafia, insomma, e tutti ricorderemo quelle immagini in televisione degli omicidi di Falcone, di Borsellino, le bombe di Firenze, le bombe di Milano, dopodiché iniziamo la sceneggiatura, raccontando un po' chi era, com'era. E racconteremo questo fino al 1990, quando lui poi diventa parroco della parrocchia di San Gaetano a Brancaiccio. Dal 90 al 93 racconteremo gli anni più importanti e gli anni in cui hanno deciso, in qualche modo, di togliergli la vita. Una rappresentazione che si preannuncia intensa per i contenuti e il messaggio, che presto verrà proposta alle scuole e alle parrocchie calabresi, a interpretare quel sorriso che fece paura a Cosa Nostra, sarà Salvatore Gualtieri. Io spero di riuscire a trasmettere quello che era Don Pino, ma di sicuro non sarà facile. Rossella Galati per la CNews 24